Envision TV, web magazine. Il Consorzio di Bonifica delle Marche ha chiamato a raccolta tutte le 480 imprese agricole e gli artigiani che collaborano con l'ente per la ricostruzione post-terremoto e contro il dissesto idrogeologico, in occasione dei due appuntamenti del convegno, le imprese agricole per il presidio del territorio. Il primo incontro si è svolto a Macerata presso l'Istituto Agrario Garibaldi, il secondo a 24 ore di distanza nella suggestiva cornice di Villa Caprile di Pesaro, sede dell'Istituto Agrario Cecchi. Grande interesse hanno suscitato le tematiche trattate, gremita la sala dell'Istituto Agrario Garibaldi di Macerata, presenti gli studenti di varie classi, amministratori locali, esponenti politici, numerosi rappresentanti di associazioni di categoria e addetti ai lavori. Costruttivo il confronto sui punti illustrati in merito alle prospettive di lavoro e di sviluppo nell'imminente futuro, in particolare nella funzione di presidio del territorio. Ci troviamo in questo meraviglioso giardino dell'Istituto Agrario di Macerata, una delle eccellenze regionali. Noi qui portiamo oggi il risultato di quello che è stato il lavoro basato su un principio. Non si può pensare ad una diversa agricoltura, a un diverso rapporto fra l'agricoltura e il territorio, se non facendo diventare la questione ambientale una questione fondamentale per quegli ambienti che producono cibo o biodiversità. E in questo ruolo i protagonisti devono essere gli agricoltori, le imprese agricole, la loro professionalità deve essere messa in campo. E l'incontro oggi che noi facciamo fra le numerose aziende, 480 che abbiamo investito di questa attività, con quelli che saranno i futuri protagonisti della gestione del mondo agricolo, della sua valorizzazione, del suo nuovo ruolo, con questa grande consapevolezza di lasciare quello che troviamo meglio di quanto l'abbiamo trovato alle future generazioni è fondamentale. Da qui partiamo nell'ambito della settimana della bonifica per riprendere una tessitura di un discorso che per noi è affermazione di principi ma quello che molto più ci interessa è anche attuazione degli stessi principi. Da tutti definita la sua struttura un'eccellenza. Sono molto contenta di questa definizione. Noi cerchiamo di formare gli imprenditori agrari del futuro e non solo, perché poi i nostri studenti hanno modo di iscriversi anche alle università, di frequentare tutte le possibili facoltà. Però noi lavoriamo molto per il territorio e con il territorio e la giornata di oggi ne è una dimostrazione. Alcuni dei nostri studenti saranno impegnati nell'ascoltare il convegno e di questo ringrazio anzi il presidente del consorzio di bonifica, l'avvocato Netti. Altri, come vedete alle mie spalle, sono invece impegnati nel nuovo apiario della scuola. Altri ancora nei nostri vigneti e la preparazione della scuola deve essere proiettata al futuro, senza però dimenticare quelle che sono state le nostre radici. Quella degli istituti agrari, quale sede per i due convegni, non è stata una scelta casuale, ma mirata ad una migliore diffusione del messaggio che le imprese del settore non possono prescindere da un'economia sostenibile. Il sistema consortile è un pezzo del sistema dell'agricoltura e le competenze di cui avremo bisogno, andiamo cercando, sono quelle degli agronomi. Dialogare con loro, aprire un confronto per dire guardate che c'è anche la realtà consortile, il consorzio fa delle cose, fa una competenza in agricoltura, svolge dei ruoli e ne può avere altri. Le Marche sono un territorio fragile. Questo paesaggio straordinario è un patrimonio che noi dobbiamo conservare e tutelare per le future generazioni. È possibile tutelarlo, cominciando da chi ci opera, dagli agricoltori che ci sono insediati, dalla gestione dei corsi d'acqua, una corretta regolazione dei fiumi. Il consorzio vuole fare un'azione concreta, però anche di recuperare una cultura, decidere il destino delle nostre future generazioni. Una delle motivazioni che facciamo in questi incontri è che vogliamo essere estremamente trasparenti. Abbiamo presentato i nostri soldi, come li abbiamo spesi. I soldi del consorzio sono finiti a 312 aziende agricole e a 150 aziende artigiane. Questa settimana a livello nazionale abbiamo lanciato un'idea, la settimana delle bonifiche, cioè in cui presentiamo la gente e quello che i consorzi fanno. Giugno, Cingoli diventa protagonista di una bella inaugurazione. Dunque, nessuna tragedia. Il ponte sul lago aveva qualche problema, non è mai stato nelle condizioni di estremo allarmismo, come è stato descritto. Comunque, sono arrivate delle provvidenze, circa 6 milioni di euro, per cui non è neanche una cifra banale. Il consorzio di bonifica ha fatto i lavori, il progetto era stato redato dal comune, abbiamo paltato, i lavori sono finiti. Sono finiti nei tempi, è la prima grande opera di ricostruzione post-remoto. Faremo l'inaugurazione, quello che manca è il collaudo, però credo che sia un'opera molto importante, qualificante. Il lavoro è un lavoro che è stato fatto bene, spendendo meno soldi di quelli che ci erano stati destinati. Il consorzio di bonifica è un'istituzione creata con norma nazionale. Quello che deve essere un attimo riordinato è il ruolo che ha, è il momento in cui si avviene un tavolo che definisca bene le competenze e ciò che uno può fare. Il consorzio di bonifica nasceva per la bonifica dei territori, per l'irrigazione dei territori e quello stabiliva la norma. Ultimamente viene utilizzato anche per altre fattispecie di servizi dalla Regione Marche, ma è bene che venga delineato il tutto, perché altrimenti si corre il rischio di trovarsi in una leggera linea di confine dove tutto diventa interpretabile e da seguito purtroppo ha delle criticità che sono sia verso il cittadino che viene chiamato a pagare, ma anche per lo stesso consorzio di bonifica che non può esistere, che si si tratta a lavorare sempre nell'interpretabilità delle norme. Il consorzio di bonifica nasce per volontà della Regione Marche, è un consorzio unico, ma che ha come governance quella del mondo agricolo, perché tutti i proprietari dei fondi rurali sono coloro che pagano la contribuenza e quindi lavorare per spendere i fondi dei contribuenti, dei cittadini, di coloro che pagano il tributo di bonifica per rendere migliore il reticolo idrogeologico della nostra Regione Marche, quindi evitare il dissesto, gestire bene l'acqua dai campi ai fossi e poi ai fiumi principali, dare delle risposte anche alle pubbliche amministrazioni, ai comuni, perché all'interno della governance ci sono anche le amministrazioni, soprattutto far capire che soggetti come questi possono dare una mano anche al pubblico a gestire delle criticità, lo abbiamo visto con la gestione dell'emergenza sisma, la creazione delle piazzole, altrimenti sarebbe stata molto più difficile e problematica, quindi su questo dovremo continuare per creare da una parte un panorama normativo che delinei quelle che sono le attività fattibili e sviluppabili dal consorzio di bonifica delle Marche, dall'altra parte far sì che queste attività abbiano sempre più un risvolto verso la collettività. Si è parlato inoltre della costituzione di una grande rete di imprese agricole, che dovranno essere sempre coinvolte nella manutenzione del territorio, nell'obiettivo di una qualificazione come sentinella del territorio stesso, per le attività di manutenzione consortile, non solo per il reticolo idrografico, di favorire le imprese marchigiane nella realizzazione delle opere pubbliche minori ed infine della necessità di inquadrare il consorzio come soggetto operatore per i lavori nel territorio. Altri incontri ci saranno, privilegeremo gli istituti agrari, ci rivolgeremo ai parchi, naturalmente alle riserve naturali, perché noi abbiamo bisogno di qualità. Il cibo è sano se nasce su un territorio sano, su un territorio di qualità. È la qualità quello che deve costituire l'elemento, la struttura portante della nostra iniziativa insieme al mondo dell'agricoltura, ma tutti i cittadini che diventano protagonisti di una nuova stagione.